Donatella dobbiamo ordinare i nuovi tessuti per l'aspirata 2023 A chi va? Sì, ma c'è da inventariare tutto il magazzino della vecchia collezione E non dimentichiamo poi gli accessori Ma è tutto costo, c'è la macchina di lavare a chi? Sì Eeeh, buuuuuh E' l'altro, io mi ricordo pure Giù, prendiamo il bicchiere di vino, frate Donatella, Donatella, ciao Carmè, come stai? Stai pure tu qua Quando hai già visto? Ti hai fatto secco Sì, lo so Però mi basta, ti ho mangiato tutto questo Grazie Prima stai carin Davvero L'occhio, il suo peggio è scoppito, ciao Ciao